Buongiorno e ben trovati in questa edizione di Mattino 6, è venerdì 1 marzo 2019, pronti per sfogliare i quotidiani locali e nazionali, andiamo subito con la prima pagina del centro, partiamo dunque dai quotidiani nazionali, riscossione tributi, 20 assunzioni a Pescara e pronta la nuova società del comune, ad ottobre il via ai primi concorsi, andiamo sotto la testata in vigore da oggi, ecotassa ed ecobonus sulle auto nuove, ecco come funzionano e poi strada dei parchi, sicurezza e viadotti, 3 indagati a Pescara, regione Abruzzo giunta passo indietro a sorpresa della Lega, andiamo a centro pagina con la fotonotizia, è morto, il cane eroe Falco salvò i bimbi di Rigopiano, cercava i dispersi con i vigili del fuoco, scomparso purtroppo per una malattia degenerativa che lo aveva colpito. E poi ancora i richiami a Pescara, uccise il vicino di casa, ha chiesto il processo, il pubblico ministero Luca Sciarretta ha chiesto il processo per Roberto Mucciante, per l'omicidio del vicino di casa Salvatore Russo, Mucciante è stato sottoposto a perizia. E poi ancora sempre a Pescara, sassi di notte contro i negozi di via Muzzi, a Montesilvano degrado infinito di via Lazio, lira dei residenti. E poi ancora torniamo a Pescara, smog alto, scattano le prime misure, il comune impone la riduzione di un grado per gli impianti di riscaldamento. E poi il buongiorno Abruzzo di Giuliano Di Tanna, Deborah L'angelo silenzioso del bene. Andiamo avanti e siamo all'edizione di Chieti Lanciano Vasto del centro che apre così targhe straniere, sigilli a 24 auto. A Chieti scoperte macchine immatricolate all'estero per non pagare multe e bollo. E poi andiamo alla fotonotizia, bomba contro il bar Solidarietà per aiutare il titolare a Fossacesia, l'attentato di Villa Scorciosa. E poi i richiami di cronaca a Vasto, casa svaliggiata mentre il figlio sta dormendo, ladri in casa di Nicola Assoria, ex consigliere comunale di Vasto, in pieno giorno e con il figlio che dorme. È stato il giovane a mettere in fuga i malviventi, andati via comunque con il bottino. E poi a Chieti, buca ricoperta, la strada riapre ai mezzi leggeri, la strada e via a Signo Aereo, dove due giorni fa si è aperta una voragine nel centro della sede stradale. Poi a Scerni, Carnevale, pupazzi animati all'esordio. Andiamo sotto la fotonotizia, schianto in moto giovane in coma a Chieti, grave un operaio di 25 anni, finito contro la vettura di una maestra. Proseguiamo, siamo sulla prima pagina del Chieti, edizione di Teramo, Tari, bollette salate e proteste. A Teramo appunto l'amministrazione comunale si difende, gli aumenti li ha decisi il commissario. E poi la fotonotizia, giurisprudenza è a rischio, ma il Rettore smentisce, Teramo allarme di quattro gruppi studenteschi. E poi i richiami, siamo in Val Vibrata, sigarette vendute sotto banco, multati due bar, non avevano la licenza per la vendita dei tabacchi, ma ne avevano oltre sei chili. Adesso rischiano una multa fino a 10 mila euro e cinque giorni di sospensione dell'attività. E poi Costa Teramana, spiagge sicure, arrivano i fondi per cinque comuni. Siamo a Giulianova, scatta da oggi il fermo pesca delle vongole. E poi ancora, sotto la fotonotizia leggiamo, stop al precariato per 300 bidelli, sono quelli che saranno stabilizzati in provincia di Teramo, in Abruzzo, sono 560. E andiamo a chiudere con il centro, con la prima pagina dell'edizione aquilana. Questo è il titolo d'apertura, costruttore muore a 41 anni. L'ex reggbista del Paganica, Roberto Rossi, stroncato dal malore in ufficio, lascia moglie e due figli. La fotonotizia, morto nel fiume Giovenco, arrivano gli esperti del RIS in carico della procura, analisi sull'auto sequestrata. E poi i richiami, l'Aquila ha chiesti i danni, piscina chiusa, comune citato per 2 milioni. La COP Verde Acqua Smile ha chiesto oltre 2 milioni di danni al comune, in seguito al mancato rinnovo dell'appalto per la gestione della piscina di Santa Barbara. E poi a Vezzano, la El Foundry è in cerca di un partner. A Sulmona, la crisi politica, furia di masci, sono ridicole le minacce del PD. E poi ancora torniamo alla cronaca d'aspo urbano a violenti spacciatori. L'Aquila, sì, del Consiglio Comunale alla proposta della Lega, ora la parola al Prefetto. e andiamo sulla prima pagina del messaggero Abruzzo. Questo è il titolo d'apertura. A 25, 6 viadotti nel Mirino. Decolla anche l'inchiesta di Pescara sui piloni malati, indagati vertici di strada dei parchi. Nei giorni scorsi il sopralluogo del perito del PM acquisiti atti al Ministero delle Infrastrutture. E poi un paio di richiami. Pescara ha chiesto il processo per il killer del vicino di casa, Roberto Mucciante. E poi all'Aquila, Veglione e Caos, tutte le accuse ai responsabili. Siamo sotto la testata. L'Aquila rinasce. Non sei sola. Pioggia di biglietti con l'atto d'amore per la città. E poi a Chieti l'emergenza. Dopo la voragine, riapertura parziale per via Signo Aereo. Ancora niente bus. E poi per lo Sport Serie B parla il doppio ex Marco Sansovini in vista di Pescara Spezia di domenica prossima, di dopodomani. Sansovini ci crede. Delfino a testa bassa verso la Serie A. Il doppio ex anticipa la sfida di domenica all'Adriatico tra i Bianchi Azzurri e lo Spezia. Le due squadre si giocano molte delle chance di promozione. E poi di spalla il piano BPR tra esuberi e chiusura delle figliali. Il gruppo riparte dopo aver acquisito Unipol e Arca. E andiamo in taglio medio intanto con la fotonotizia. Maxi sequestro di maschere e costumi. Il carnevale comincia male. Il Nassar. Articoli tossici. E poi morto nell'argine. L'autopsia non fa chiarezza. Resta un giallo. La morte del 50enne di San Benedetto dei Marsi. In arrivo il RIS. Poi quartiere difficile. Rancitelli. Caritas in campo per la socialità. In basso la sanità cattiva. O Torino in pensione. Ambulatorio chiuso. Andiamo a chiudere questo segmento di mattino 6 con la prima pagina della città. Il quotidiano della provincia di Teramo che però dedica l'apertura alle dinamiche per la costituzione della giunta regionale. Marsiglio cerca la quadra di giunta. Incontro a Roma con i vertici di Rega e Forza Italia per dirimere la questione dell'esecutivo. Poi sotto la testata il sindaco chiude l'idea della rateizzazione. Nessuno sconto sulla gestione del comunale di Teramo. E poi ubriaco travolge tutto. Notte folle lungo le strade di Albadriatica. A Giulianova il segretario lascia per la provincia. E andiamo a centro pagina dove c'è la fotonotizia depredata. Casa Rosa a Roseto. I ladri hanno portato via anche i termosifoni. E poi una serie di richiami. Intanto da questa parte per il calcio. Le parole di Luigi Giorgi, il centrocampista bianco-rosso. Obiettivo salvezza a 40 punti. E poi da quest'altra parte Team. Alla Team è tornata la voglia del socio privato. Intanto bollette tari aumentate e già scadute. Andiamo in basso. Gaff del sindaco sul caso Buche. L'esultanza sulla sentenza favorevole irrita le opposizioni. Andiamo a chiudere con questi altri due richiami a piedi pagina. con la presa di posizione del comitato progetto IZS osservato speciale. Poi ad Atri l'attore Luca Barbareschi dice porto in scena Mamet contro le gogne mediatiche. Lasciamo i quotidiani locali. Apriamo ora la parte dedicata alle prime pagine delle principali testate nazionali. Siamo sul Corriere della Sera. Mossa di Conte sulla TAV. Il Premier lavora al compromesso sia all'opera ma ridotta. Pressing su Di Maio. Salvini insiste per l'autonomia a chiudere entro la settimana verso un decreto. Sblocca cantieri. E poi sotto la testata con il giallo che si infittisce riguardo all'attaccante dell'Inter Mauro Icardi. La replica a Spalletti. Icardi io amo l'Inter e merito rispetto. Ieri un suo post, una sua lettera pubblicata su Instagram. E poi di spalla dal vertice fallito al caso Coen. Il futuro difficile di Trump. Nessun accordo con Kim. Scendiamo a centro pagina. Katherine Spack, vittima di bullismo sul set dell'armata Branca Leone. L'attrice ricorda il film di Monicelli. Presa di mira perché donna. E poi a Como abusi di gruppo su quattro ragazzine alla festa in casa. Arrestati cinque giovani stranieri. Andiamo avanti e siamo sulla prima pagina di Repubblica. L'apertura. Il governo prepara la mini-tab. Nuova analisi per ridurre i costi. Ma nei cinque stelle scoppia la rissa. Scambio con la Lega. Rinviata l'autonomia. E poi questo richiamo di politica. La partita 3. Primaria e PD. L'appello dei candidati votate in tanti. E poi l'intervista all'ex ministro leghista Maroni. Serve un altro partito targato Nord. Ormai la Lega è solo sovranista. E scendiamo a centro pagina. La fotonotizia nel cuore di Napoli. Il condominio dove tutti aspettano il reddito. Il reddito di cittadinanza. E poi l'intervista a bugie su Celentano. Claudio Amori. Ecco chi ha tradito il nostro Adrian. Il fumetto. E poi andiamo sulla prima pagina di Libero. Crisi di nervi nel governo. Non c'è accordo più su niente. Esecutivo paralizzato. Tutto fermo. Perché il Movimento 5 Stelle è diviso e sotto shock per le batoste elettorali. Salvini accederà sull'autonomia. E di maio frena. Conte gela i grillini sulla TAV. Si riparte per non farci mancare nulla. Matteo e Luigi si dividono perfino sulle prostitute. Poi il punto di vista di Vittorio Feltri. O referendum subito o morte certa. Poi di spalla. Brutta idea dell'ex ministro Savona. L'Europa è un disastro. Non imbarchiamo pure la Turchia islamizzata. E poi a centro pagina la fotonotizia. Notizia. Il presidente leghista del Trentino. Faccio viaggiare gratis i vecchi in bus ma costringo gli immigrati a pagare. Andiamo sulla prima pagina del messaggero. Questa è l'apertura. Autonomia. Conti a rischio. Ecco il rapporto riservato della ragioneria che smonta la riforma del nord. Costi alti per lo Stato. Il governo frena. Di Maio in trincea. Rinvio a dopo le europee. Salvini. Dice Conte. Tratti con le regioni. Andiamo a vedere. Ora sotto la testata. Si avvicina il derby della capitale Lazio-Roma. Milinkovic-Savic-Zagnolo. Un derby per lasciare il segno all'Olimpico. Poi ancora. Torniamo verso il centro pagina. Attenzione tra i grillini. Tav. Altolà della Lega ai 5 Stelle. O si fa o sosterremo il referendum. La fotonotizia. Netanyahu accusa di corruzione e tra 40 giorni ci saranno le elezioni. La replica del Premier Castelli di Carta. Sempre in taglio medio. Roma. Di effetti di quota 100 su statali e società pubbliche. Pensioni nel Lazio 8 mila richieste. Reddito. Si riducono i fondi. Andiamo sulla prima pagina del mattino. L'apertura. Autonomia. Dubbi del tesoro. Dietro front 5 Stelle sul condono. Il rapporto riservato della ragioneria. Costi troppo alti per lo Stato. Buffera tra i 5 Stelle. Ritirato il disegno di legge sulle case da abbattere. E poi la fotonotizia con questa bella storia. Il grande Culi. Il piccolo Sheik. La solidarietà. Non solo ha parole. L'aiuto al bambino senegalese. Senegalese il difensore del Napoli. Calido Culivari con il piccolo Sheik a fianco. E poi le inchieste del mattino. Sempre in taglio medio. Interessi e liti legali. Le spese fuori controllo del comune di Napoli. Il bilancio ai raggi X rispetto alla media virtuosa. Tagli su welfare e bus. E bene i costi delle bollette. Andiamo sul sole 24 ore con l'apertura. Flat tax per le famiglie con l'IRPEF al 15% e Ires tagliata al 20%. E poi la fotonotizia. De Longhi tenta l'acquisto di Gaggia. Altri due titoli. A centro pagina. Codice appalti nel decreto legge. Sub appalti e commissari straordinarie. Poi le parole di Boccia, di Confindustria, Italia e Francia unite per tracciare la rotta dell'Europa. Proseguiamo. Siamo sulla prima del manifesto che apre così fuori di test. Il riferimento è all'atteso vertice di a noi sul nucleare tra Kim e Trump che è clamorosamente fallito. La promessa di Pyongyang per lo stop ai test atomici non c'è così come manca la volontà USA di annullare le sanzioni commerciali. Il presidente americano abbandona il summit e torna a Washington dove lo aspetta la tempesta del Russiagate dopo le accuse del suo ex avvocato Cohen. La prima del fatto quotidiano che apre così Tav, i due blef del referendum e dell'analisi bis. Chiamparino annuncia un voto regionale illegittimo. Nuova analisi sui costi italiani, perdita di 3,5 miliardi. La melina per scavallare le elezioni di maggio. E poi il conto, il ministero spende 3.500 euro, il libro di Paolo Savona lo paghiamo anche noi. E poi a centropagina primarie PD, domenica si elegge il leader, tre candidati, un solo programma. Zingaretti, Martina e Giacchetti si sfidano in tv senza differenze sostanziali. E poi ancora il processo non solo a Firenze, ma Marenzi rinviata a giudizio per concorso in bancarotta a Cuneo. Andiamo avanti, siamo sulla prima pagina della stampa Tav, la svolta di Conte. Valuteremo la nuova analisi costi e benefici di Maio Aumbivio, i grillini in agitazione Toninelli. In settimana si chiude colloquio con il Premier Italia e Francia impegnate insieme per la Libia. E poi l'intervista a Silvio Berlusconi, Movimento 5 Stelle finiti, Salvini, Limogli o Rischie. Poi PD, l'ombra di Renzi sui candidati. Andiamo alla fotonotizia. I siti nucleari segreti di Kim fanno saltare l'intesa con Trump. Siamo sulla prima del tempo. Un blef, il taglio dei costi della politica. Sarti e Di Maio, nessuna differenza. Lo stipendio lo pagano intero ad entrambi i contribuenti. Costa tutto come prima, levando hotel e taxi agli onorevoli romani. 20 milioni di risparmi. E poi sotto la testata, faida tra grillini sui rifiuti di Roma. L'audizione in regione della D di Ama diventa un derby tra la Corrente Raggi e quella Lombardi. E poi a centropagine il tempo di Oscio nella fotonotizia. Primarie PD, sfida TV tra i tre. Che noia, almeno queste elezioni le vinciamo sicuro, detto in romanesco con i tre candidati alle primarie del PD. E poi di spalla, parla Maria Stella Gelmini, liberare Salvini dal gioco 5 Stelle, la missione di Forza Italia. Siamo sulla prima della verità. Un altro processo per mamma Renzi. Matteo invoca l'aula. Le toghe lo accontentano. La madre sarà giudicata per concorso in bancarotta a Cuneo. Qui dopo l'arresto rischia una nuova iscrizione pure Tiziano. E lunedì prossimo c'è la prima udienza per fatture false a Firenze. Parla la testa di legno della Marmodiv. Mi fecero firmare, ma non ho mai fatto la consigliera. E poi a centropagina Greta, la piccola verde che piange per il clima e fa guadagnare i grandi. A centropagina, immigrati sequestrano e stuporano quattro minori. Orrore a Como. In cinque hanno rapito le ragazze per ore. Una di loro violentata e presa a morsi. L'apertura del secolo.it. Islam giallo-verde. Il governo scrive allargare l'Europa alla Turchia. Salvini se ne è accorto. Andiamo a chiudere con l'avvenire. Che apre così la sua prima pagina. Razzismo ed estremismo. I due volti del pericolo. Il rapporto dei servizi segreti sottolinea i rischi attuali dal ritorno dei combattenti jihadisti all'aumento delle azioni xenofobe. A centropagina la fotonotizia sfratto alla Tendopoli di San Ferdinando. Si cerca l'accoglienza per mille persone a Gioia Tauro. E poi schiaffo di Kim a Trump. Salta l'intesa sul nucleare. Il leader nordcoreano voleva lo stop alle sanzioni USA. È un arrivederci. Lasciamo le prime pagine nazionali. Torniamo alle testate locali chiaramente. Ripartiamo dal centro. Qui siamo su pagina 2. Ecotassa sull'auto nuova. Ecco chi paga. Un extra fino a 2.500 euro per vetture con emissioni oltre soglia di anidride carbonica. Ma parte anche l'eco bonus fino a 6.000. L'elenco delle marche e i modelli di veicoli interessati alla nuova tassa è molto lungo. Se ne contano 540 solo nella prima fascia che va da 161 a 175 grammi al chilometro di anidride carbonica. E poi in basso l'eco bonus potrà essere concesso a rate. Le norme in vigore da oggi sono senza decreti attuativi. Annunciate misure per l'usato Euro 5 ed Euro 6. Forza Italia interroga il governo. Mancano le istruzioni per la corretta erogazione del bonus. Intanto si registra una fuga dal diesel a fronte di una crescita di benzina e un boom delle ibride. Andiamo avanti. Il fronte in questo caso è quello della sicurezza sulle strade e sulle autostrade. Viadotti anche a Pescara apre l'inchiesta. Tre indagati fascicoli già avviati all'Aquila e Terramo dopo gli esposti di due associazioni. Strada dei Parchi atto dovuto nostro incarico agli esperti dell'università. E proseguiamo e siamo sulla pagina Abruzzo con la politica in primo piano. Il rebus della nuova giunta regionale, la Lega, a sorpresa, fa un passo indietro. Pronta a rinunciare alla presidenza del Consiglio in cambio di una consistente contropartita. Andiamo a vedere il servizio del Tg6. Ancora una volta i tavoli romani potrebbero decidere il futuro del governo regionale abruzzese. Infatti i leader locali dei partiti di maggioranza, segnatamente Lega e Forza Italia, e il presidente Marsilio non riescono a trovare l'accordo sulla divisione degli incarichi in giunta. E dunque potrebbe essere risolutivo proprio l'incontro fra il capo del carroccio Matteo Salvini e il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi per varare la nuova giunta. Ancora ferma in porto a due settimane dal 10 di febbraio. La Lega sembra intenzionata a non fare sconti agli alleati e chiede quattro assessorati più la presidenza del Consiglio. In più il coordinatore regionale delle Camice Verdi, Giuseppe Bellachioma, forte del risultato ottenuto dalle urne, ribadisce la linea nazionale rispetto alla scelta degli assessori in base alle competenze e non alle preferenze ottenute. Forza Italia, dal canto suo, non vuole cedere ai diktat del carroccio e chiede due assessorati guardando favorevolmente ad un impegno in prima linea nel settore della sanità su cui i tre consiglieri azzurri, Febbo, Sospiri e De Annuntis, in queste due settimane si sono spesi in maniera decisa. Quella in atto, dunque, è una vera e propria guerra di posizione che riflette a livello locale la distanza fra Salvini e Berlusconi sul piano nazionale. Nel frattempo, dal versante Fratelli d'Italia, arriva la strigliata del sindaco di L'Aquila Pierluigi Biondi che lancia il tema del riequilibrio dell'economia fra aree interne e costa. Per il primo cittadino del capoluogo di regione, uniformare i processi economici dei territori è la madre delle sfide per il nuovo governo regionale, chiamato ad affrontare e superare il modello di una bruzza a due velocità, tema che si allaccia anche a quello della ricostruzione, primo punto da affrontare secondo il governatore Marsilio. Tornando al totonomi per gli assessorati, chi sembra sicuro del posto in giunta con anche la delega già in tasca per il turismo e Pietro Quarisimale, il più votato del carroccio in provincia di Teramo. Ho fatto una buona esperienza a Campi, Campi come sapete è entrata nei borghi più belli d'Italia a seguito di tante iniziative basate sulla promozione del territorio che secondo me mancano in Abruzzo in cui vorrei dare il mio sostegno affinché la nostra bellissima regione in cui le distanze sono avvenute risorse tra mare, colline e montagna. Sicuramente possiamo pubblicizzarle al mondo affinché tanti turisti possano venire sul nostro territorio. Pagina 14 del centro, costa dei Trabocchi, l'8 agosto la ciclabile, avvasto in estate i primi tratti riservati alle due ruote da ieri al lavoro, 15 tavoli tecnici per definire il prodotto turistico. Iniziamo ora con le pagine di Pescara, geriatria, pazienti accampati e personale, sempre in trincea. Un'infermiere ogni 15 pazienti e lavoro oltre l'orario previsto per non lasciare i colleghi in emergenza. Anche ieri malati nei corridoi con 14 ricoveri in più, oltre i 54 previsti. Il primario servono altri posti letto. E poi ancora sempre la questione sanità e la salute. Al centro trasfusioni niente medici per il turno di notte. Cesaroni della tutela dei diritti del malato, garantita la reperibilità, ma così c'è chi fa anche 12 ore di lavoro nella stessa giornata. Andiamo avanti, si parla in questo caso di inquinamento, smog. L'allarme è rientrato, ma scattano le prime misure. Lunedì e martedì il valore delle polveri sottili è sceso rispetto alla settimana scorsa. Il comune ha imposto di abbassare la temperatura massima del riscaldamento. Proseguiamo. Siamo sempre a Pescara. La cronaca. Ride con i sassi contro le vetrine. Preso di mira una farmacia e un'agenzia immobiliare. Il responsabile è un moldavo con problemi psichici già noto alla polizia. E poi in basso leggiamo giornata delle malattie rare con Adricesta. L'associazione ha riunito in un pomeriggio di festa i medici dello sportello regionale e le famiglie. Proseguiamo e ritorniamo alla cronaca. Il PM uccise il vicino con crudeltà. Chiesto il processo per Roberto Mucciante lo scorso 25 aprile. assassino in garage Salvatore Russo con 38 coltellate. Proseguiamo. Siamo all'argomento lavoro con le nuove opportunità. La nuova società delle tasse assumerà 20 giovani. Svelato il progetto della futura agenzia del comune che nascerà a giugno. Partirà con 34 dipendenti. Poi aumenteranno i primi concorsi entro ottobre. Sempre a Pescara, in questo caso la politica, futuro sindaco, le priorità, mare, porto e periferie. Ecco il documento del PD contiene alcuni suggerimenti per il prossimo candidato. Di Pietrantonio tra gli obiettivi c'è anche la nascita della nuova Pescara. Intanto affidato l'incarico di vice sindaco, un nuovo patto con la sinistra dietro la nomina di Diacovo, appunto neo vice sindaco, dopo che Blasioli è stato eletto in consiglio regionale alle ultime elezioni del 10 febbraio. Le pagine di Montesilvano con la vicenda Via Lazio, vicenda Degrado, liquami e sporcizia nel Palazzo Popolare. Residenti in rivolta nel Degrado, l'edificio di proprietà del comune di Pescara, il consigliere regionale Pettinari del Movimento 5 Stelle annuncia iniziative. Proseguiamo, siamo a Città Sant'Angelo, differenziata con l'Ecoisola dall'11 marzo raccolta al Via. Ieri e oggi al Teatro Comunale gli incontri sulla sperimentazione che vedrà impegnati i residenti del Centro Storico, già installate le piattaforme. E poi ancora l'ite di famiglia con coltello, aggressore bloccato dai militari. I carabinieri denunciano un 45enne di origini campane per lesioni personali e possesso illecito di arma dopo aver tentato di aggredire il consuocero, ha spinto una figlia incinta, mandandola in ospedale. Tutto questo è accaduto a Francavilla al Mare. Proseguiamo, siamo a Farindola, addio al cane Falco, eroe di Rigopiano. Ora cerca in cielo con il vigile del fuoco, suo compagno, salvò i bambini rimasti seppelliti dalla valanga nel resort. Migliaia di like su Facebook. Ora le pagine di Chieti, i controlli e ora c'è il rischio confisca. Targhe fuori legge, sequestrate 24 auto sotto accusa alle macchine immatricolate all'estero per non pagare bollo e assicurazione. Scattano multe da 16 mila euro. Intanto ancora sangue sulle strade abruzzesi. Schianto, moto, auto, grave giovane operaio. Incidente in Viale Unità d'Italia. In coma un 25enne finito contro la macchina di una maestra, sempre a Chieti. E' incidente mortale anche a Ortona, schianto mortale a Ortona, camionista a processo. Infatti in questo caso però risalgono ad agosto del 2016, quando ci fu un incidente in cui perse la vita Massimo Macrini di 24 anni. Finisce a giudizio il conducente della Bisarca e accusato di omicidio stradale. E poi ancora le pagine di Teramo. Stabilizzazione in vista per 560 bidelli, oltre 300 sono nel Teramano. Il sindacato USB dice che la legge di bilancio prevede che la pulizia dal 2020 non sia più appaltata all'esterno. Allora noi andiamo a vedere il servizio relativo a questo articolo, il servizio realizzato dal TG6. E poi subito dopo le previsioni del tempo la pubblicità. E poi rientriamo con la seconda parte di Mattino 6. Sono quasi tutte donne tra i 45 e i 65 anni, 20 anni di precariato ma soprattutto di lotta. I lavoratori e le lavoratrici ex LSU nel 2020 vedranno finalmente riconosciuto il loro diritto alla stabilità lavorativa e riconosciute le giuste garanzie che spettano a chi da decenni tiene in piedi le strutture scolastiche assieme al personale ATA. Circa 12.000 impiegati in tutta Italia, di cui 560 circa in Abruzzo, in maggioranza nella provincia di Teramo, che conta al 2017 oltre 300 assunti. Un momento storico perché? Un momento storico perché dopo 20 anni i lavoratori impiegati nei servizi di pulizia delle scuole, ex LSU e a parti storici, finalmente vedono riconosciuto questa anzianità di servizio. Finalmente, dopo 20 anni di precariato, nell'ultima legge di stabilità, grazie alla capabilità dei lavoratori e dell'organizzazione sindacale che rappresento, siamo riusciti a stabilizzare questi lavoratori attraverso l'internalizzazione dei servizi. Ora c'è bisogno dell'ultimo passo ed è per questo che abbiamo deciso di convocare questo momento con la stampa per far sì che tutti i lavoratori impiegati in questi servizi vengano appunto internalizzati. C'è una volontà politica messa nero su bianco nell'ultima legge di stabilità. Ora ci sarà da definire i meccanismi tecnici per far sì che tutta la popolazione dei lavoratori impiegati in questi servizi possa a tutti gli effetti entrare a far parte del personale ATA e vedersi riconosciuto un ruolo che svolgono da 20 anni, ovvero quello di lavorare per un servizio pubblico, quello di pulizia delle scuole, e quindi di vedersi riconosciuto un contratto pubblico, quello del personale ATA. In Abruzzo quanti lavoratori saranno stabilizzati? Parliamo di all'incirca 500 lavoratori, solo nella provincia di Taramo sono all'incirca 300, purtroppo i numeri non sono precisi perché sono tutti impiegati con cooperative o ditte che hanno preso a parti o subapparti, quindi è difficile anche capire qual è il loro datore di lavoro, ma parliamo di questi numeri. 500 in tutto Abruzzo, 300 a Taramo, questo processo di internalizzazione significherebbe per la prima volta porre fine alle sofferenze di lavoratori che purtroppo sono invecchiati all'interno del precariato. Con la stabilizzazione miglioreranno anche le condizioni economiche e il salario passerà da 850 euro a 1100 euro mensili. Di nuovo buongiorno, seconda parte di mattino 6, sempre sul centro e sempre sulle pagine di Taramo. Gli studenti, giurisprudenza a rischio, c'è l'allarme sulla storica facoltà presso l'Università di Taramo, ma il rettore rassicura quattro gruppi temono che Pescara possa fare concorrenza a Taramo, poco supportata dall'Ateneo. Mastro Cola smentisce, offerta formativa rafforzata con la magistrale, accordo con la d'annunzio. Siamo a Silvi, insediata in comune la consulta dei giovani, l'organismo composto da 16 ragazzi e presieduto dal consigliere Valentini, il sindaco. Favorendo la partecipazione dei giovani, guardiamo al futuro. Ora siamo sulle pagine dell'Aquila, dramma a Paganica, imprenditore, muore in ufficio a 41 anni. Malore improvviso, stronca Roberto Rossi, lavorava nella ditta di famiglia, ex requista, lascia due figli piccoli. Poi siamo a San Benetto dei Marsi, morto nel fiume, la procura chiama Iris. Si cercheranno tracce biologiche di Dorazio nell'auto sequestrata a uno degli indagati e oggi l'esame sui telefoni. Nuovi elementi dall'autopsia. Secondo i difensori dei giovani, il 51enne sarebbe annegato, il consulente del PM dovrà depositare i risultati entro 90 giorni. Lasciamo il centro, andiamo ora sulle pagine del messaggero Abruzzo, ripartiamo con la politica. La giunta è difficile, lo schema 4-2 piace soltanto a Lega e Azzurri. Forza Italia non vuole pesare quanto gli alleati minori, azione politica non ci sta. Il governatore è 48 ore per mediare. Nell'incontro a Roma, Bella Chioma, forte investitura di Salvini, conferma niente passi indietro. E poi andiamo a PD Pagina e c'è questo articolo dedicato alle primarie del PD. Cuzzi si schiera con Zingaretti e detta la linea sul voto a Pescara. PD alle primarie per il segretario, l'assessore ospita Matteo Ricci e parla di futuro e candidato sindaco. Allora vediamo proprio il servizio del TG6 con l'intervista a Matteo Ricci. Intanto è tempo di partecipare. Domenica tutti coloro che non condividono le politiche di questo governo, fatto di propaganda, paura e recessione economica purtroppo, hanno una grande possibilità che è quella delle primarie. Andare a votare e poi scegliere il candidato che guiderà il PD e il centro-sinistra. Noi abbiamo deciso di scegliere Zingaretti perché avevamo bisogno di un candidato autorevole che vinca subito, eletto dal popolo, e che abbia un rapporto con i territori veri perché il PD e il centro-sinistra, lo dimostrano anche le elezioni in Abruzzo e in Sardegna, si rinnova soltanto se punta su un territorio o su protagonismo dei territori. Zingaretti che sembra partire con i favori del pronostico per usare un eufemismo calcistico. Sì, è andato molto bene tra gli iscritti, speriamo che l'elettore delle primarie ottenga il 51%, anche per questo occorre a mio parere votare Zingaretti perché noi abbiamo di fronte una campagna dell'europea molto tosta e abbiamo delle amministrative dove si voterà in 4200 comuni e quindi abbiamo bisogno assolutamente da lunedì di avere una guida autorevole e che tutti uniti si costruisca al centro-sinistra futuro alternativo al governo giallo-verde. Abbiamo recuperato molto grazie a due fattori, l'unità della coalizione e del centro-sinistra con questa apertura molto forte al civismo e l'autorevolezza dei candidati perché sia Legnini in Abruzzo che Zedda in Sardegna erano i candidati migliori che potevamo mettere in campo e ci hanno consentito di fare un passo avanti. Ovviamente ancora la strada è lunga, c'è tanto ancora da recuperare però abbiamo dimostrato che se abbiamo queste due condizioni possiamo recuperare tanto e magari risalire presto la china. Pagine di Pescara del Messaggero, strada dei parchi vertici sotto inchiesta, viadotti insicuri nella tratta pescarese della 25 e mossa della procura dopo le prime verifiche tecniche del perito Chiaia. Nei giorni scorsi, sovraluogo su sei tratti tra Popoli e Pescara, i carabinieri hanno prelevato atti al Ministero delle Infrastrutture e la situazione di degrado strutturale evidenziata nelle denunce di due associazioni. Il PM Sciarretta ha incaricato l'ingegnere del Politecnico già impegnato sul Rigopiano, le cifre nel Mirino su 36 milioni stanziati per la manutenzione straordinaria ne risultano spesi soltanto 13 e mezzo. E poi sempre la cronaca, tra poco vedremo anche il servizio del TG6, maxi sequestro di maschere, scherzo di carnevale del NAS, 120 mila articoli potenzialmente pericolosi sottratti dal mercato, multe ai commercianti in tutto Abruzzo, il servizio del TG6. Mascherine e costumi di carnevale, gadget, articoli elettrici a bassa attenzione, tutti potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori. Oltre 20 attività commerciali ispezionate, circa 120 mila articoli sequestrati, confiscati e distrutti per quasi un milione di euro, con sanzioni amministrative elevate per 10 mila euro. Questi numeri più significativi di una vasta operazione su scala regionale portata a termine dai carabinieri del NAS Abruzzo di Pescara nelle ultime ore. I NAS di Pescara in questi giorni hanno ispezionato moltissimi negozi della regione Abruzzo nelle quattro province e l'esito dei sequestri, che parliamo appunto di 120 mila pezzi stimabili per un valore di circa un milione di euro, è frutto di un'attività di controllo, di vigilanza, ma di attività anche di sequestro scatruite poi in confische determinate dalle camere di commercio delle quattro province abruzzesi. Il provvedimento di confisca è propedeutico a una distruzione. Ci siamo occupati anche delle distruzioni attraverso il conferimento in siti autorizzati e abbiamo realmente tolto dal mercato e distrutto tutti questi articoli che potevano essere pericolosi per la salute. Acquistare prodotti che non sono tutelati da un marchio è una garanzia di non sicurezza del marchio, ma l'occhio del genitore nell'acquisto di costumi e maschere di carnevale deve cadere sull'etichetta e sul marchio CE. Sono assimilati a giocattoli, pertanto hanno garanzie di sicurezza come ad esempio l'essere articoli ignifughi e quindi la possibilità di essere indossati dai nostri bambini con assoluta garanzia e con assoluta sicurezza. Proseguiamo con le pagine di Pescara del Messaggero. Su Corso Vittorio la Cocciniglia fa strage di lecci. Per lecce non si possono curare, non rientrano nel piano di ripiantomazione che ha anche smog e lavori hanno inciso. L'esperto caudullo, piante infestate, l'assessore Paolo Marcheggiani dice valuteremo una loro sostituzione. Poi ancora nuova riviera sud prima dell'estate. Natarelli affronta l'esame da assessore, il neo delegato ai lavori pubblici. In caso di ritardi dovremo poter rinviare tutto evitando disagi. Proseguiamo sempre a Pescara. Rancitelli, il riscatto dal carnevale, sfilata in maschera con i bambini domani dalla ludoteca Thomas Dezzi. L'iniziativa sociale a cura di Caritas, Fondazione Pescara Abruzzo e l'associazione Spazi di Prossimità. Poi ancora uccise con ferocia, ha chiesto il processo per mucciante, spietato killer del vicino. Il PM Sciarretta ha chiuso le indagini contro l'uomo. Re ho confesso, i parenti della vittima temono una pena. Mite, le pagine dell'Aquila, del messaggero, quel biglietto che dà speranza. L'Aquila, tu non sei da sola. Cartoncini anonimi in tutto il centro lasciati sulle panchine e sulle vetrine. Bella calligrafia e anche un cordoncino. È in rete e caccia agli autori del gesto. I commercianti all'unisono, una iniezione di fiducia in un momento così difficile. Sempre all'Aquila, bel vedere. Pensare a un nuovo ponte. La risoluzione del contratto con lo studio di progettazione riapre il dibattito sulla tipologia di soluzione da adottare. Il presidente dell'Ordine degli Ingegneri Pierluigi De Amicis. Costruirne uno più moderno, il com'era e dov'era, non fa bene. Gli inquilini che vivono al di sotto continuano a chiedere più sicurezza. Poi ancora siamo in Marsica, Collinzio. L'autopsia non risolve il giallo. Torna a prendere corpo la possibilità che il 51enne sia morto per asfissia. Le indagini ripartono da capo. Derubricati anche i termini dall'ipotesi di omicidio volontario. Ora si ipotizza l'abbandono di persona incapace. San Benetto di Marsi complicata, oltre il previsto, la scena del decesso. Proseguiamo e siamo sulle pagine di Chieti. Via aereo riapre al traffico. Ma per ora niente autobus riparata. E' asfaltata la voragine di 5 metri grazie a un intervento di sommorgenza. Il sindaco di Primio dice che la collina Teatina ha bisogno di altri lavori. Faccio un appello alla regione. Poi di spalla con la moto contro auto. Giovane in rianimazione. Incidente allo scalo. La procura ha disposto il sequestro dei mezzi. Ancora siamo a Lanciano. Abitare oggi al Via l'edizione dei 30 anni. Torna a Lanciano Fiera fino a domenica con molte novità. La rassegna nazionale delle edilizie e dell'architettura. Protagonista è la casa e ciò che la rende confortevole anche con innovazioni tecnologiche. L'ingresso è gratuito. Le pagine terramane del messaggero. Sosta selvaggia in centro. Blitz dei vigili in Viale Bobbio. Multate le automobili in zona rimozione. Mentre gli operai stavano potando gli alberi. Gli agenti sotto organico. Ne sono ancora solo 25. Invocano lo street control e la videocamera. Le parole del sindaco Dalberto. Un'assunzione fatta finora non è sufficiente al lavoro del comando. Bisogna riavviare il concorso. Poi di spalla bollette salate dell'Atari. Le proteste dei cittadini. Tante segnalazioni. Il sindaco promette le ridurremo a fine anno. Poi ancora siamo a Giulianova. Otorino in pensione. Chiude l'ambulatorio. Sette giorni fa l'ultimo turno del dottor Sergio Molina. Titolare dell'unità operativa semplice dell'ospedale. Quando il dottor Francesco Donofrio presta servizio a Teramo. La stanza di diagnosi e cura resta sbarrata. Possiamo lasciare il messaggero Abruzzo. Andiamo sulla città. Il quotidiano della provincia di Teramo. E partiamo da pagina 5. Nessuno sconto sulla gestione del comunale. Il sindaco Dalberto Perentorio dopo la diffida è andata a vuoto. Per i 69 mila euro dovuti per l'affitto. L'assessore di Buonaventura ha aperto ad una possibile ratalizzazione del debito. Che però andava proposta dal gestore. Entro il 24. Team torna la voglia del socio privato. Per il sindaco è una buona soluzione. Purché abbia obiettivi e sia compatibile con le leggi. Al tavolo riportati i problemi di sempre su turni, mezzi, dotazioni e la trasformazione di addetti impiegati. Al tavolo non c'erano i vertici della Team riconvocati per metà marzo ma con delle soluzioni operative. Pagina 7. Progetto IZS. Il quartiere fa le sue osservazioni. Il comitato di ponte a catena coinvolto nelle scelte sulla transazione imminente tra comune e caporale. Pagina 8. Licenziamento annullato. Il comune Sappella. Nuovo capitolo della complessa vicenda processuale tra amministrazione ed ex vigilessa Anna Capponi. Poi ancora che fare con i passaggi a livello di San Nicolò. Sul tavolo il progetto da 2 milioni e mezzo di euro. Comune e comitato ne stanno già discutendo. Andiamo avanti. Siamo alle notizie sul fronte al risparmio energetico. Il progetto Paride fa scuola in Europa. I risultati ottenuti sull'efficientamento energetico presentati a Bruxelles da una delegazione della provincia. L'alta reputazione della provincia a Bruxelles permetterà di avere buone valutazioni sui prossimi bandi. E ora le notizie dalla provincia di Teramo. Notte folle lungo le strade di Alba. Danneggia due auto e abbatte una colonnina lasciando al buio un condominio. E poi ancora siamo a Giulianova. Il segretario comunale lascia Giulianova. Marini da oggi prende servizio in provincia. Ha a rischio gli atti già avviati. Sul fronte delle prossime elezioni comunali Costantini presenta già il suo programma elettorale. Il coordinatore di Forza Italia ha le idee chiare. Completa ristrutturazione dei settori. Poi ancora a Roseto. I ladri portano via anche i termosifoni. Segnalati due furti in meno di un mese. Portato via l'arredamento. Lampade al neon. E poi lavandini e impianto termico. L'appello. Il sindaco pronto a presentare una denuncia. lancia un appello ai possibili testimoni che frequentano la zona casarosa. Proseguiamo. Siamo sempre a Roseto. Inaccettabili le parole del sindaco. Pavone e Marconi attaccano dopo la sentenza del tribunale sulle buche. Il sindaco dovrebbe pensare a risolvere i problemi invece di fare l'avvocato difensore dell'ente. Andiamo ora ad aprire la fase dello sport. Lo facciamo con la città. Chiaramente con l'argomento che è quello del Teramo. E le parole dell'esperto centrocampista Luigi Giorgi. Che dice la salvezza intorno a 40 punti. Il centrocampista torna anche sul fallo subito da Bresciani. Mi ha chiesto scusa. Non c'era il cattiverio. L'ex Ascolano proverà a esserci anche se lo scontro con il giocatore del Ravenna è stato durissimo. È entrato in maniera scoordinata ma si è subito reso conto. Poteva andare peggio. Andiamo ora a vedere le prime pagine delle principali testate nazionali sportive. prima di andare su centro e messaggero sempre per quanto riguarda lo sport. Siamo qui sulla gazzetta dello sport. Strappo Icardi. Ennesima polemica. Spalletti. A Malinter solo chi si allena e gioca. Maurito Duro su Instagram. Io in campo anche infortunato. E ho rinunciato a offerte. Chi decide mi rispetti. Il club irritato. Evita repliche. E poi a centro pagina angoscia senza fine. Mesner lì è morto mio fratello. Il ghiaccio viene giù a blocchi. Sono altissimi come grattacieli. E poi una serie di richiami. Gattuso De Zerbi. Panchine ruggenti. Il nuovo che avanza. Manager, attori, scrittori. Dieci cartoline ed autore sul derby Lazio-Roma. E poi in vista del big match Napoli-Juve. Napoli-Juve show. Ancelotti e Ronaldo è una sfida reale. E poi il Fulham fa fuori i ragneri. Dopo 7 K.O. in 8 partite. Ha resistito 106 giorni. La prima pagina del Corriere dello Sport. Tempesta d'amore. Spalletti scarica Icardi che regisce con una lettera. E il caso deflagra. E poi sotto la testata. Allegri non ne può più insulti e offese sui social. Il tecnico della Juve si è cancellato da Twitter e Instagram. Scelta personale. Spiega l'entourage. CR7 torna ad allenarsi. Forse gioca con il Napoli. Poi in basso. Come abbiamo visto poco fa. Fulham-Ragneri via. Dopo 106 giorni. La prima pagina di Tutto Sport. Esclusivo Mazzarri a Tutto Sport. Tifosi vi svelo il mio toro. Il tecnico in relazione per due ore e mezza. Equilibrio. Spirito di squadra e qualità. Così puntiamo in alto. Il mio desiderio è aprire un ciclo. Qui si sta da Dio. E poi sotto la testata. Juve. CR7. C'è spesa real. Sospiro di sollievo per Ronaldo. Rivoluzione a Madrid. Assalto a Marsello e Isco. E poi di spalla. Inter caos che bufera tra Icardi e Spalletti. Torniamo sulle pagine dello sport. Lo facciamo con il centro. Andiamo a parlare di Pescari. Intanto con l'intervista rilasciata ieri da Cristian Capone. Io, Zeman, il papo è quel rifiuto alla Premier League. Cristian Capone nella redazione del centro. Voglio la Serie A. Teniamo duro perché possiamo giocarci. La Pilon ha tanta grinta. Mi piace. Reduce da un brutto infortunio. Ora voglio dimostrare di essere quello dell'anno scorso. Devo tanto al Boemo. Qualche anno fa ho detto no al Liverpool per restare all'Atalanta. Gomez, il papo, è il mio idolo. E poi sul fronte calcio giocato, sul fronte notiziario. Stop per Brugman e Memushai. Ma domenica ci saranno. Anche Mancuso non è al meglio. E poi Serie C. Teramo allo sprint salvezza. Giorgi servono 40 punti. Domenica scontro diretto con la Fermana. Il centrocampista lancia il diavolo. E' un crocevia importante. Cerchiamo di non far rire per blindare la categoria. L'ex Ascoli, in dubbio, per la sfida contro i marchigiani, a causa di una botta alla Tibia. Sono al 70%. E poi la Serie D. Spuri. Io, Chieti e L'Aquila. Due spareggi maledetti. A quello perso con i Neroverdi. A Cesena ho ripensato anche di recente. Una delusione. Che delusione? Nel 92. La mancata promozione in C2. In un fattore spettacolare. E poi per il basket di Serie B. Amatori Omenia. Parte l'assalto alla Coppa Italia. I pescaresi oggi alle 18.30 in campo. A Porto Sant'Elpidio. Gaia e Pedrazzani fiduciosi. Ce la giochiamo. Alla pari. Andiamo ora sulle pagine dello sport del messaggero Abruzzo. La pagina dello sport è aperta così con l'intervista, con le dichiarazioni del doppio ex di Pescara e Spezia, Marco Sansovini. A testa bassa verso la Serie Marco Sansovini lancia la rincorsa a Biancazzurra. Le sue ex squadre domeniche all'Adriatico si giocheranno una grossa fetta di stagione. E poi ancora, dice Sansovini, un delfilo diverso che sa soffrire. Non bisogna fare drammi dopo la sconfitta di Benevento. Del Grosso rientra in difesa. Bocciato Gravion che va verso l'esclusione dopo l'errore in occasione del gol partita con il Benevento. Poi per il basket, Ricci in azzurro, andiamo in Cina, viva Little Basket, viva la vita, così l'abruzzese celebra su Facebook la vittoria in Coppa e i mondiali 2019. E questa è l'ultima pagina che vediamo, quella di sport del messaggero Abruzzo. Serie C, Teramo, la via di Giorgi, ora i match decisivi, il centrocampista è ancora in dubbio ma proverà a esserci con la fermana, fasciando la tibia. Entriamo in un periodo in cui ci giochiamo sfide che potrebbero farci svoltare la stagione. Di spalla alcuni richiami di Serie D, tra Bastese e Pineto, derby che vale doppio. Giampaolo non vuole che gli ospiti bissino il successo dell'andata. E poi Francavilla ha notaresco un crocevia per i play-off. L'undici di Rachini sta vivendo un magic moment. E poi Avezzano, la società si appella ai supporters, tutti allo stadio, il club nero-verde lancia il suo appello. Sul fronte Giulianova, Real svolta dopo Messina. La salvezza non sfugge. Chiudiamo qui con la rassegna stampa di Mattino 6. Vi ricordo gli appuntamenti informativi con la nostra emittente, i TG6 delle ore 14, 19 e 23. Invece Mattino 6 tornerà domani mattina alle ore 8. Io ringrazio in regia Claudio Di Giacomo e ringrazio voi per la cortese attenzione e buona giornata. Grazie a tutti.